non sapevamo se confidare più su te o su Piero se sbagli sei finito non sapevamo se confidare più su di te o su Alessandro però ce l'abbiamo fatta alla fine brava, bravissima ciao Pipio trovato? subito vai, vieni, parti, torni ecco i cartoni sono sole.it si è robo si è robo siete neri? si hai fatto una lampada supplementare? vengo dal Burundi ciao sono mare.it molto bene mamma mi rinco pure a me ah c'è pure il nodo ciao 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 come stai? come stai? benore oh beno male ti approfondi il giorno è un giorno al mare un giorno al mare è bruciato però è una bella capone l'ha preso tutto l'ha preso tutto tutto l'è zì con un 2-10 e... come stai zio? tutto pronto tutto pronto la tua bambina cresce è fantastica solo che non me sepila proprio a nessuno non ha solo a te guarda eh ciao grazie come stai? sto bene? sì ma che stai a fare le riprese? no saluti a Sergio Sergio ciao Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Quale? Quale ragazzina? Ma la prende, ma la prende. 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 Che è successo? Ormai? Che cosa? Pinocchio! No, come on, what were you guys supposed to do? He was in town! Two friends, you were so fun! No, come on, come on, come on! No, come on, come on, come on! No, come on, come on, come on! No, come on, come on, come on, come on, come on! No, come on, come on, come on! No, come on, come on, come on, come on, come on! Il professor Giuseppe èうre, bisogno che bello da', come on, 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 come on! E abbiamo venuto meglio da giù che sta arrivando a Porta! Guardate se tira un applauso, ho fatto bene a Porta, dai! Brava! E ora invidiamo il palco per accomodarsi, c'è una buona voce a tutti quanti insieme! Sant'Uri a te, Sant'Uri a te, Sant'Uri a te, Sant'Uri a te! Sant'Uri a te, Sant'Uri a te, Sant'Uri a te, Sant'Uri a te! E ora invidiamo il palco per ragazzo, dai! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti